ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo che ci ha fatto veramente innamorare di sé questo è un bellissimo effetto trafolato molto bello trattenuto i fine a rombo come potete vedere con un bellissimo effetto tridimensionale guardate che spettacolo la cosa bella che da entrambi i lati si presenta nello stesso medesimo modo quindi non c'è la differenza tra il diritto e il rovescio del lavoro è un motivo quindi che potete andare ad adattare veramente per tantissimi progetti come delle sciarpe dove come non so un bel coprispalla cardigan copertine maglioni estivi oppure primaverili cappellini anche quindi potete veramente andarlo ad adattare per tantissimi progetti soprattutto anche grazie alla sua lavorazione che è veramente molto molto facile questo meraviglioso motivo con effetto rombo tridimensionale è un multiplo di due mali e di quattro feri quindi noi ora per il nostro esempio andiamo a avviare 12 mali di cui 10 mali saranno dedicati alle nostre coppie del motivo e due mali che sono le maglie di vivanio noi per l'avvio andiamo a utilizzare l'avvio alla nordica tutorial dell'avvio alla nordica chi fosse interessato troverà qui sotto nella descrizione di questo tutorial oppure sopra mentre sto parlando esci nei video consigliati cliccando sopra arrivate direttamente al link tutorial dedicato all'avvio alla nordica avviamo le nostre 12 mali ed ecco qui abbiamo avviato le nostre 12 mali ora come il passaggio primo passaggio dobbiamo andare a mettere la nostra base e andiamo a lavorare due feri entrambi con la lavorazione a diritto ed ecco qui una volta che abbiamo messo la nostra base partiamo con il primo ferro del nostro motivo andiamo a spostare la maglia di vivanio e partiamo con il primo motivo ci ricordiamo che il motivo è composto da due mali e quattro feri quindi partiamo con la prima coppia innanzitutto andiamo a vedere la sua lavorazione la prima maglia della prima coppia noi entriamo nella sua asola e con il ferro di destra la spostiamo appunto sul ferro di destra senza lavorare mantenendo il filo dietro come se dovessimo lavorare una maglia a diritto ora con il ferro di sinistra entriamo dietro sotto l'asola della maglia che abbiamo appena spostato in questo modo facendo lo spazio allargando l'asolina del ferro di sotto in modo tale da andare a ricavare una maglia a diritto con il ferro di destra in questo modo come ora vediamo nel video e ora da una maglia ne abbiamo due una spostata e l'altra ricavata dal ferro di sotto ora la seconda maglia della coppia la lavoriamo a un rovescio semplice ora abbiamo tre maglie da due e va bene così perché poi nel passaggio successivo vedremo come tornare al numero originale stessa cosa partiamo con la seconda coppia il filo lo montiamo dietro come se dovessimo lavorare subito una maglia a diritto ma prima andiamo a spostare la prima maglia della coppia con il ferro di sinistra andiamo a entrare sotto nel ferro sotto così per allargare e aprire l'asolina e ora con il ferro di destra entriamo in asolina che abbiamo aperto allargato con il ferro di sinistra e ricaviamo una maglia a diritto ed ecco che di nuovo abbiamo due maglie da una ora la seconda maglia della coppia la andiamo lavorare a rovescio normale e così dobbiamo procedere per tutto il ferro con questa particolare lavorazione della prima maglia spostiamo senza lavorare entriamo sotto nell'asola sotto allarghiamo l'asolina e ora con il ferro di destra entriamo dentro e ricaviamo una maglia così da uno ne abbiamo due e la seconda maglia della coppia lavoriamo a rovescio semplice procediamo così per tutto il ferro ed ecco qui ora partiamo con il nostro ferro di ritorno il ferro numero 2 nel ferro numero 2 tutte le nostre maglie vanno lavorate a diritto la male di vivagno quindi si sposta successiva male che si presenta in singolare si lavora a diritto normale subito dopo vediamo la seconda maglia quella in coppia noi entriamo dentro a queste due asole e da due ne andiamo a ricavare un'unica maglia a diritto facendo così noi ritorniamo al nostro numero originale siamo pronti per il ferro numero 3 quindi tutto il ferro a diritto ricordiamoci di andare unire e diminuire le maglie quindi le maglie come in questo caso vedete si presentano in coppia vanno lavorate insieme come se fosse un'unica maglia ed ecco qui così si presenta dopo aver fatto i due feri ora partiamo e vediamo insieme il ferro numero 3 che avrà lo stesso modo di lavorazione ma con il scambio di posizione quindi andremo a lavorare nel modo semplice la prima maglia della coppia e in modo particolare come abbiamo appena visto in modo un po' più articolato la seconda maglia della coppia allora partiamo la maglia di vivagno noi la spostiamo guardate qui abbiamo la prima maglia della coppia che si vede che è quella che è stata lavorata in doppio quindi noi la andiamo a lavorare a rovescio semplice la seconda si presenta in singolare quindi quella che era lavorata in modo normale nel ferro numero 1 quindi noi la spostiamo ora con il ferro di sinistra andiamo a allargare l'asolina sotto di questa maglia e ne andiamo a ricavare la seconda quindi vedete che abbiamo fatto la stessa e medesima lavorazione ma ora sulla maglia numero 2 della coppia quindi qui dove abbiamo la doppia andiamo a lavorare a rovescio normale quindi una semplice lavorazione la seconda maglia della coppia invece la andiamo a lavorare in modo particolare entriamo dentro spostiamo la maglia subito dopo andiamo a allargare l'asolina sotto del ferro sotto della maglia con il ferro di sinistra e ora con il ferro di destra andiamo a ricavare una maglia e così procediamo per tutto il ferro sempre mantenendo la coppia di due maglie ma scambiando la loro posizione di lavorazione particolare ecco qui ora il ferro di ritorno che è il ferro numero 4 l'ultimo ferro del motivo noi andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a diritto quindi anche la coppia la lavoriamo a diritto ma la coppia la andiamo a diminuire quindi entriamo in asolo di questi due alla male che si presenta doppia entriamo in due e ricaviamo una la male singolare la lavoriamo a diritto semplice quindi andiamo a fare la diminuzione entrando in asolo di due maglie e creando una quindi vedete doppia entriamo dentro creiamo una e la singolare la lavoriamo normalmente procediamo così lavorando tutte le maglie a diritto per tutto il ferro numero 4 di ritorno ed ecco qui abbiamo visto come appunto realizzare questo bellissimo progetto come avete visto è facilissimo ora non dovete fare altro che andare mantenere questa lavorazione per tutto il progetto speriamo che il tutorial vi è piaciuto grazie che siete rimasti con noi e al prossimo video tutorial grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti